ben ritrovati nel video di oggi vi mostro come poter realizzare il punto corallo che è un punto ornamentale soprattutto per la decorazione dei bordi di un lavoro e questo non viene mai lavorato tinta su tinta ma viene lavorato sempre con un filato in contrasto al tessuto proprio per evidenziare meglio il ricamo quindi come prima cosa vado a fissare il tessuto sul telaio e mi porto dal retro del lavoro sul diritto vado a fare un punto verso la mia destra in questo modo leggermente più basso rispetto al punto di uscita del lago e del filato appunto vado sul retro e lo lascio morbido non lo tiro fino alla fine perché vado dal retro del lavoro ad inserirmi in questo modo e quindi a passare in questa sorta di asola che si è formata con il punto precedente ora vado a fare lo stesso procedimento però verso la mia sinistra quindi mi sposto un po più in basso parallelamente comunque al punto che abbiamo fatto in precedenza vado sul retro del lavoro lascio sempre un po' il filato morbido dal retro del lavoro esco sempre sul diritto passando sempre in questa sorta di asola che abbiamo creato in questo modo spilo e continuo sempre a creare questi punti una volta verso la mia destra una volta verso la mia sinistra lasciando sempre il filato un po' morbido e scendendo verso il basso perché come potete notare questo punto si ricama appunto in verticale ci aiutiamo eventualmente anche con la mano sinistra se non riusciamo soltanto con la mano destra e procediamo sempre nello stesso modo l'unica accortezza che bisogna avere è di creare appunto questi punti in modo parallelo per poter creare il nostro punto corallo in modo uniforme ci ricordiamo di passare sempre dentro la nostra asola e continuiamo sempre nello stesso modo quindi come potete vedere continuando sempre la lavorazione in verticale il risultato che si ottiene appunto questo intreccio di filato che ricorda appunto un corallo e da questo prende il nome di punto corallo appunto potete vederlo anche in orizzontale in questo modo è molto adatto alla decorazione dei bordi di una tovaglia da tavola ad esempio l'unica accortezza che bisogna avere per la realizzazione di questo punto è fare attenzione alla distanza tra i vari punti bisogna cercare di mantenere più o meno sempre la stessa distanza e quindi creare il punto in modo uniforme vi saluto e al prossimo video grazie 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 grazie